preghiera per la di maria composta dal beato giovanni paolo secondo maria orienta le nostre scelte di vita confortaci nell'ora della prova affinché fedeli a dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di cristo redentore dell'uomo maria strade l'evangelizzazione cammina con noi bravo a ascoltare vesti d'amore viveremo tra noi la nostra speranza è andata e spezzare la nostra certezza l'amore di Dio 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 ci colleghiamo ora con la parrocchia santa margherita virgine martire dalla capelletta di noale in provincia di venezia e per trasmettervi il santo rosario la santa mesta e le nodi buon ascolto e buona paghiera l'amore di Dio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la preghiera del Santo Rosario, Lodi e Santa Messa siete collegati con la chiesa parrocchiale di Santa Margherita Vergine Mater, in Cappelletta di Noale, località di origine romana, situata nella provincia di Venezia. L'antica chiesa, citata in una parola... ...d'ammirare la pala dell'altare maggiore, la figurante Santa Margherita, la statua della Madonna del Carmine, che il 16 luglio è stata solennemente portata in processione, e l'antica acquasantiera in alabastro, pregevole opera risalente all'ottavo-nonno secolo. Nello sole della facciata è la figurata Santa Margherita, titolare di questa chiesa e di cui oggi la chiesa famiglia. Anche noi, nella cingerci a pregare, ci uniamo a questa comunità che festeggia la sua santa, sempre raffigurata come un drago in piedi e con la croce in mano, per indicare la vittoria del bene sul male. A Santa Margherita affidiamo i cari ammalati, i sofferenti, le persone noi care, e la supplichiamo di intercedere presso il Signore perché fortifichi la nostra fede. E uniti alla croce di Gesù possiamo sconfiggere sempre le tentazioni, in particolare quella dello scoraggiamento. Presiede la liturgia eucaristica il parloco Don Francesco Guarise. I canti sono eseguiti dalla corale Santa Margherita, diretta dal Maestro Angelo Barbero. All'organo il Maestro Giampaolo Barbero. A tutti buon ascolto in comunione di preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, mi presta il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come a me, nel principio, nel sempre, nel secolo, nel secolo di aria. L'ho dato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre forti, preserva il fuoco dell'inferno. Porta il cielo e le altre messe, servite le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. E' la mia vita. Primo mistero della gloria. Gesù risorge da morte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Comincero così in terra. Grazie a tutti i nostri anni, continuiamo, che rimediano i nostri detti, come noi che rimediamo i nostri diventori. E' una cintura intensazione, ma libera il suo amare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Poi essi seguiti della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Poi essi seguiti della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Adesso è il figlio della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Adesso è il figlio della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Adesso è il figlio della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Adesso è il figlio della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pecatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gesù, 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 Gesù. Gesù, perdona le nostre uome, presentaci dal fuoco dell'inferno. Porta il cielo di tutte le anninto, e cece a dinta le più disunzze della tua misericordia. Regina della pace. Secondo mistero della gloria, Gesù ascegna il cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, l'eterno riposo, dono loro Signore, che cadessi la luce perpetua, in posi in pace. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto è, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto hai il frutto del tuo seno, Gesù.